Il fantasma dei play-out torna da leggere sul grifone, il Grosseto perde sul neutro di Poggi Bonzi contro il Tau Alto Passo e si ritrova di nuovo nel mischione per non retrocedere. Squadra è schierata entrambe col 3-5-2 da due tecnici, Kretas decide di tenere fuori Cesaroni e va con Gomez e Giustarini in attacco, confermato il rientro di Bruno dopo l'infortunio alla spalla. Pronti via i lucchesi dopo 40 secondi giungono alla conclusione con Villanova, palla deviata in angolo, il Grosseto risponde al sesto con Kretel, interno destro dentro l'area di rigore che termina sul fondo. Al trentasettesimo episodio da Moviola in aria bianco-rossa, Moscatelli svirgola e colpisce il pallone col braccio, l'arbitro non ravvisa l'irregolarità del terzino e lascia proseguire fra le proteste ospiti. Al quarantesimo il Grifone sfiora il gol di Ambo, servito in aria cerca un angolo impossibile, il tiro dell'ex Pescara viene deviato da Di Biagio, colpisce la traversa e incredibilmente non entra in porta. L'ultima azione pericolosa è del Tau Alto Pascio con una punizione alla tre quarti che Danetti respinge bene dopo un rimbalzo insidioso, il primo tempo termina così a reti inviolate. La ripresa parte con gli stessi 22 effettivi e il Tau che domina il campo, al sessantesimo gli Amaranto sfiorano il vantaggio con un'incorrenata di Meucci che lude la marcatura su corner e reimpatta bene il pallone. Buon riflesso in Annetti che evita il gol. Un giro d'orologio dopo ancora il 23, Lucchese arriva alla conclusione al limite, palla fuori. Il Tau vede premiati i propri sforzi al sessantasettesimo su corner, un autogol di Ciolli che tenta un disperato anticipo su Mancini a portare in vantaggio la squadra ospite. Il Grosseto subito il gol si sveglia e sfiora il pareggio al settantesimo con Cretella, il cui colpo di testa in anticipo su Di Biagio è salvato sulla linea da Mancini. Cretaz butta in la mischia anche Cesaroni che all'ottata tresimo sfiora il pareggio con una punizione diretta all'incrocio, Di Biagio smanaccia in angolo. Al novantunesimo il Grifone su una mischia in aria va vicino al pareggio ma la spazzata della retroguardia ospita e fa partire il contropiede che porta Capparella a tu per tu con Annetti. Il portiere bianco-rosso a rispondere presente, all'ultimo respiro un contatto dubbio fra Cesaretti e Giustarini in aria fa esplodere le proteste della tribuna ma l'arbitro lascia correre. Finisce 0-1, vince il Tau meritatamente e la classifica del Grifone torna a fare paura.